Ben trovati a questa nuova edizione del TgAlfa, abolite le province, passa all'Ars, l'Assemblea regionale siciliana all'emendamento del governo Crocetta che cancella questo tipo di enti locali. Non si voterà a maggio per il rinnovo degli organi amministrativi provinciali, in arrivo i commissari, via libera invece ai consorsi dei comuni. La riforma sarà varata entro il 31 dicembre di quest'anno. L'Assemblea regionale siciliana cancella le province. Sala D'Ercole approva la norma promossa dal governo Crocetta e riscritta da tre capigruppo della maggioranza, Gucciardi, Leanza e Malafarina, dopo i rilievi del commissario dello Stato che prevede il ritorno ai liberi consorsi comunali in sostituzione degli attuali enti. Salta il turno elettorale provinciale di fine maggio. Arriveranno quindi i commissari e si dà tempo all'Assemblea regionale siciliana fino al 31 dicembre per varare una nuova legge. In sostanza ora l'Ars ha otto mesi di tempo per scrivere una vera e propria riforma che ancora non c'è. È certo però ed è scritto nell'emendamento approvato da Sala D'Ercole che gli organi di governo dei liberi consorsi non saranno eletti direttamente dai cittadini ma scelti con un sistema indiretto di secondo grado. Dovrebbero essere i sindaci interessati a nominare fra di loro i vertici dei nuovi enti territoriali che prenderanno il posto delle province. La norma che nei fatti abolisce le province è passata con 53 voti a favore, 28 contrari e un astenuto. L'opposizione di centrodestra aveva chiesto il voto segreto, decisivo alla luce dell'esito e il sostegno dei grillini alla maggioranza. A buon diritto possiamo definirla una delle vittorie politiche del movimento che ha riportato sui giusti binari una discussione che aveva preso un'altra direzione. Noi abbiamo sparigliato un po' le carte, riacceso il dibattito e alla fine sia Crocetta sia la maggioranza hanno ripreso quella che era una delle nostre proposte, dice il capogruppo all'Ars del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri. L'abolizione delle province è una riforma storica. Si tratta della prima tappa di una rivoluzione importante che riguarda la Sicilia. Oggi ha vinto il modello Sicilia, ha detto il governatore Rosario Crocetta subito dopo l'approvazione del maxi emendamento. È la prima regione che riesce a farlo. Poi Crocetta ha voluto ringraziare il presidente dell'Ars Giovanni Ardizzone dell'Udc che ha svolto un ruolo irreprensibile e corretto e che ha fatto un uso severo delle regole. L'abolizione delle province, dice il sindaco di Agrigetto Marco Zambuto, è una vittoria di tutti. Una tappa importante della rivoluzione annunciata al presidente della regione Crocetta è stata raggiunta e la Sicilia diventa la prima regione d'Italia a procedere con un provvedimento d'avanguardia all'eliminazione di un ente superfluo ed anti-economico. In assemblea regionale siciliana la coalizione di maggioranza ha voluto l'abolizione delle province, sostituendole con i consorsi dei comuni cui componenti saranno nominati dalle amministrazioni territoriali rappresentate, cancellando pertanto le elezioni provinciali che si sarebbero dovute tenere a maggio. Entro la fine dell'anno sarà comunque approvata una nuova legge che definirà il modello e i compiti dei consorsi dei comuni in sostituzione delle province. Con l'istituzione dei consorsi, dice Marco Zambuto, si consuma un passaggio storico del riordino istituzionale e capacità di rappresentanza del territorio della Sicilia. Visto ordinanno con la storiella dell'avvenuta abolizione delle province in favore dei liberi consorsi dei comuni. Non vi diranno che in Sicilia i liberi consorsi dei comuni esistono dalla metà degli anni Ottanta e prendono il nome di province regionali. Lo sostiene il capogruppo del PDL in consiglio provinciale Ivan Paci, intervenuto sull'abolizione delle province da parte dell'ARS. Non vi diranno che l'unico vero interesse di Crocetta è quello di nominare nove commissari, quante sono le province siciliane e che entro un anno si intenderà di varare una riforma che abolirà le province e le elezioni dirette dei rappresentanti dei consorsi, i quali verranno nominati a seguito di un accordo tra i sindaci dei comuni interessati. Legasi, partitocrazia, lottizzatrice, rispolverando il manuale Cencelli. E questa vergognosa pagina antidemocratica da Prima Repubblica conclude Ivan Paci del PDL e targata Grillo, Partito Democratico. La chiusura delle province era dovuta, si sopprimono enti che nel tempo hanno perso efficacia amministrativa e sono stati sempre più percepiti come fonti di spreco di pubblico denaro. Lo dice il deputato regionale dell'Udc Lillo Firetto, occorre adesso rendere efficienti le competenze periferiche con una legge di riordino che limiti la spesa ed esalti le prestazioni. Adesso lasciamo la pagina dedicata all'abolizione delle province, occupiamoci di cronaca. 72 agenzie di poste private che in violazione del testo unico delle leggi bancarie praticavano servizi abusivi a pagamento sono state sequestrate sul territorio nazionale nell'operazione denominata Lost Pay, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Palermo. Contestati i reati di truffa e appropriazione indebita, i titolari di due network sono stati denunciati le agenzie sequestrate si trovano nelle province di Palermo, Agrigento, Messina, Catania, Roma, Macerata, Reggio Calabria, Modena e L'Aquila. Sequestrati quasi 180 conti correnti utilizzati per il deposito delle somme illegittimamente incassate, circa 30 milioni in 18 mesi tramite i bollettini in pagamento, i bollettini postali. A Porto Empedocle i carabinieri nel corso di una serie di servizi predisposti per arginare l'ormai deprecabile fenomeno dei furti di tombini di ferro collocati nelle pubbliche strade, rinvenuta anche l'inferriata di un balcone in ferro battuto, circa 50 metri di cavi in acciaio e strumenti vari di effrazione come martelli, chiavi, cacceviti ed altro, furgone, materiale ferroso ed attrezzi sono stati sottoposti a sequestro. Dei due, Salvatore Siracusa, 47 anni di Porto Empedocle, già noto alle forze dell'ordine, è stato tratto in arresto e trattenuto in caserma a disposizione dell'autorità competente, mentre il secondo, un minorenne, è stato segnalato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Palermo. A Montellegro i carabinieri della locale stazione durante la notte scorsa hanno arrestato Gerlandino Gravano, 35 anni, per tentato furto aggravato di una villetta. E' stato il proprietario dell'immobile che, uditi alcuni rumori, ha chiamato il 112. Immediato è stato l'intervento dei militari dell'arma che, giunti sul posto, hanno circondato l'edificio, acciuffando dopo un breve trambusto l'empedoclino. Questi, dopo le frazioni di una finestra del piano terra, si era introdotto nell'immobile. Dopo la perquisizione personale a cui è stato sottoposto l'arrestato, i carabinieri hanno trovato un grosso cacciavite, evidentemente utilizzato per scassinare l'infisso da cui si era introdotto nella casa. A pochi metri dal luogo dell'episodio delettuoso è stata rivenuta anche la sua vettura, un Opel Corsa, risultata intestata ad un familiare della persona arrestata, dalla quale erano state precedentemente smontate le targhe, poi trovate dai militari dell'arma a seguito di attente ricerche. Cambia la geografia politica in Consiglio Provinciale di Grigento. Ecco i cambi di Casacca. Sentiamo. Cambia la geografia politica del Consiglio Provinciale. Ultimi rimescolamenti e cambi di Casacca. Pellegrino Quartararo ha lasciato l'MPA e Giochino Zarbo si sgancia dal PDL per aderire entrambi al gruppo misto come indipendenti. Arturo Ripepe si è dichiarato indipendente e infine Davide Gentile ha aderito al Movimento Politico Democratici Popolari Riformisti per la Sicilia. Quartararo ha spiegato di avere lasciato l'MPA perché pensa che il partito abbia tradito tutti i siciliani apparentandosi con la Lega alle recenti elezioni politiche. Intanto fanno discutere i rinnovi degli incarichi ai consulenti esterni. Le nomine sono state fatte al Presidente Eugenio Dorsi e riguardano l'Avvocato Girolamo Rubino che è stato attribuito l'incarico di esperto estraneo all'amministrazione in materia giuridico-amministrativa e Gianluca Massimiliano Rizzo che svolgerà ancora l'incarico di esperto estraneo all'amministrazione per l'assistenza nell'attività di programmazione volta allo sviluppo delle politiche agricole nel territorio della provincia. Su questo argomento è intervenuto il capogruppo del PDL in Consiglio Ivan Paci. Ritengo, dice Paci, che l'amministrazione d'Orsi tra comunicazioni, incarichi, revoche e reiterate nomine di assessori per i quali si è perso il conto abbia operato a danno dell'ente. Ritengo inoltre che i risultati e i fatti posti in essere dall'attuale amministrazione rispondono a logiche partitiche che indubbiamente nulla hanno a che vedere con il rilancio del territorio amministrato. Orazio Guarnaci, consigliere di Voce Siciliana ex Grande Sud, rincara la dose e presenta un'interrogazione sulle nomini di esperto che il presidente d'Orsi ha conferito durante la legislatura. Guarnaci chiede l'elenco completo di tutti gli esperti nominati dal presidente d'Orsi sin dal suo insediamento, copia di tutte le determinazioni presidenziali con le quali è stato incaricato nel tempo Gianluca Massimiliano Rizzo come esperto esterno all'amministrazione e quelle sulla nomina di Saro Massimiliano Cutaia ed ancora copia di tutte le dovute relazioni prodotte sia dall'esperto Rizzo che da Cutaia. L'importo complessivo percepito per l'esplettamento degli incarichi e la durata degli stessi per verificare se siano stati di supporto nell'azione amministrativa. La provincia di Agrigento organizza dall'11 al 13 maggio nell'area del porto turistico di Licata, Marina di Cala del Sole, il primo forum sul turismo provinciale. La manifestazione ha lo scopo di concentrare in uno spazio espositivo tutta l'offerta turistica ed enogastronomica del territorio provinciale per favorire l'incontro degli operatori e presentare l'offerta ai consumatori e turisti. Durante la manifestazione si svolgeranno dei convegni sui temi turistici e due seminari formativi della durata di tre giorni indirizzate agli operatori della ristorazione. Inoltre si terrà un workshop con la presenza di buyer di primaria importanza che si occupano di incoming in Sicilia con la possibilità di programmare incontri per la trattazione di accordi turistici. Gli spazi espositivi e relazionali saranno messi a disposizione degli operatori in maniera del tutto gratuita. Gli operatori che intendono partecipare all'evento possono visionare gli avvisi relativi alla propria tipologia sul sito della provincia di Agrigento. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, torneremo subito dopo con le altre notizie e gli altri servizi.